Ieri giornata mondiale per la lotta all'HPV, il papillomavirus, venerdì 8 marzo, giornata internazionale della donna. Per l'occasione ASST ha aderito alla campagna di Regione Lombardia promuovendo per sabato 9 un open day con servizi gratuiti su prenotazione. Il papillomavirus è l'infezione sessualmente trasmessa più diffusa ed è la causa principale del cancro della cervice ulterina e può essere responsabile di altri tumori correlati. L'infezione non colpisce soltanto le donne ma anche gli uomini e l'assenza di sintomi, nella maggior parte dei casi, ne ritarda la diagnosi. Quasi tutti i tumori correlati al papillomavirus si possono prevenire con la vaccinazione e lo screening. Un'occasione dunque da non perdere è quella della mattinata di sabato 9 dalle 8.30 alle 13. Le donne tra i 30 e i 64 anni che non abbiano eseguito un HPV test negli ultimi 5 anni potranno sottoporsi all'esame nei consultori aziendali di Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Dongo prenotando l'appuntamento al numero verde 800 569 300. Il vaccino per il papillomavirus viene invece somministrato senza prenotazione presso i centri vaccinali a Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Livigno a tutte le ragazze e ai ragazzi non vaccinati, a partire dagli 11 anni e fino ai 18 per i maschi, dai 26 per le femmine. Quanto allo screening pap test, questo è riservato alle donne dai 25 ai 29 anni non vaccinate per HPV che non abbiano eseguito un pap test negli ultimi tre anni. L'accesso è su prenotazione, anche in questo caso chiamando il numero verde 800 569 300. Infine, per prenotare lo screening mammografico previsto presso le radiologie degli ospedali di Sondrio, Sondalo e Chiavenna e dedicato alle donne dai 45 ai 74 anni, è necessario accedere al portale regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it